Donnarumma o Mignan? Donnarumma. Ruben Dias o Van Dyke? Ruben Dias. Bellingham o De Bruyne? Eh ragazzi qua è tosta. Però cado su... Cado, cado bene. Su Jude Bellingham. Alain Dombapé? Mbappé. Lautaro o Zimane? Eh, l'ho detto poco tempo fa ma ricordo un po' Higuain e quindi dico Lautaro.